Signore e signori, buonasera, questa è Minecraftita, io sono Surry, ogni giorno che passa ci avviciniamo a Capodanno, che io mi sento di ricordarvi non è il 31, ma il primo di gennaio, Capodanno, il capo, il primo dell'anno, è importante, è importante, perché io crescendo pensavo che Capodanno fosse il 31, invece no, invece no, Capodanno è il primo, il primo è importante, è una distinzione importante, allora siamo tornati nella nostra casetta e faremo delle cose, le cose che faremo sono in primis creare dei vasetti, questi vasetti mi serviranno da piazzare accanto alle scale, quindi 1, 2, 3 e 4 e qui ci mettiamo dei bellissimi alberelli, ok? Ok? Purtroppo non sono colorati, non si può aver tutto dalla vita, ahimè, cosa vuoi che ti dica? Allora, qui è dove abbiamo la canna fumaria, di conseguenza qui è anche dove vorrei mettere un campfire, ma io ce l'ho delle altre, ho lo shulker box e non so perché non lo sto usando, Vabbè, fatti miei ragazzi, non so cosa dirvi, allora ce ne ho un pochino, va bene, allora nel caso poi ne facciamo altri, come lo fa il bro? Fammi guardare un pochino, allora, beh, è abbastanza semplice, questo lo mette al contrario, questo lo mette al contrario, quindi tipo fa, beh, mi conviene prima piazzare il campfire, onestamente, quindi ti ha un bel campfire lì, Poi il broschi in realtà piazza anche in maniera molto cattiva, se posso dirlo, una sbarra, ma va bene, ti dirò di più, magari questo lo sostituiamo con un pezzo di cobblestone, così non prende fuoco il tutto, mi sembra più coerente, a me sì. Di conseguenza ora necessito di un paio di scalette in più, fortunatamente ho qualche mattoncino che mi avanza, non me ne serviranno tantissimi, giusto per arrivare in cima, però, insomma, è giusto che farlo presente, facciamo così, facciamo così, facciamo così, perfetto, perfetto. Ora, in realtà, penso, cosa usiamo, vogliamo usare sempre, allora, lì in realtà ci andrà la terracotta, giusto? Quindi potremmo fare che abbiamo questo qui, oppure, tipo una roba del genere, o ci piace usare, no, ma dai, non è male, non è male, sarebbe forse più coerente, in effetti, usare, tipo, un cobblestone, un cobblestone, un brick wall, No, dai, ma rendiamolo anche un po', un po' più nostro, va bene così, va bene così, ci piace, ci piace. Ora, qui attorno, in realtà, il broschi fa una cosa, lui utilizza le ceste, le ceste, però, guarda, facciamo così, le ceste sono molto belle, indubbiamente, ma c'è un problema con le ceste, che non è Natale, e voi direte, in che senso, su, è già passato Natale? No, quello che sto dicendo io, è un'altra cosa, che in Minecraft, esiste una cosa molto bella, allora, uno, due, uno, due, forse me ne serve giusto un altro, ah, cazzo, ce l'avevo già, vabbè, facciamo tre ceste, e le mettiamo da parte, lì, nell'angolino, una in più, grazie, fantastico. Allora, facciamo una cosa così, mettiamo una qui sopra, e un'altra qui sotto, non so se a Natale io riuscirò a giocare a Minecraft, perché anche perché il mio mondo è in studio, e io sarò in Veneto, però, tralasciando questo piccolo dettaglio, una cosa bella di Minecraft a Natale, è che le ceste diventano ceste di Natale, bellissime, obiettivamente molto molto belle, e non saprei come, cioè, non so se è una cosa che fanno dal server, o se tu in singolo puoi, senza connessione a internet, puoi comunque farlo, e quindi non saprei come, onestamente, però purtroppo quest'anno va così. Allora, qui mettiamo anche un bel rubinetto, per l'acqua, giustamente, va che bello, me l'ho dimenticato di mettere la scorsa puntata, e nel frattempo lasciamo tutto qua. Ci piace? Diciamo che per il momento ci piace, ragazzi, non saprei cos'altro dirvi. Allora, di qui, di qui va l'albero, però per l'albero di Natale dobbiamo fare anche degli stand, quindi, non solo gli stand, c'è anche la questione degli elmetti colorati, che è l'unico modo che abbiamo per fare dei pacchi di Natale, senza usare delle teste, perché in Creative tu potresti usare delle teste di player, ce ne sono ad hoc, e le usi proprio come skin, e in Creative puoi darti queste teste, noi che siamo in survival non possiamo farlo, quindi dobbiamo arrangiarci come possiamo, ma non ci lamenteremo, perché anzi ci piace molto come idea, cioè molto, ci piace. Qui mettiamo dei bottoncini random, sì, in realtà questi non erano barili all'inizio, erano altri blocchi, però ce la facciamo dare bene lo stesso. Cos'altro? Piazziamo degli, uno slab, uno slab? O vogliamo piazzare una, tipo così? Forse così, vogliamo fare un, tipo una poltroncina, per guardare fuori il panorama? Allora, lo vogliamo fare, ma il broschi ha deciso che useremo molto più legno del previsto, e per la precisione quattro scalette. Vuoi fare una roba di questo tipo? Beh, che in realtà ti dirò, sembra una poltrona? Sì, però non mi piace questo legno qui, vorrei un legno più scuro, tipo un dark oak, dark oak ce l'ho, possiamo recuperarlo. Ecco, già che ci siamo, facciamo così, qui accanto mettiamo delle, uno slab e delle traptor, sto usando davvero tante di traptor, però, oh, che ti devo dire, e ci mettiamo un jukebox. Ora, per fare il jukebox serve il diamante, ma non è un problema, noi qui dentro se ci mettiamo un po' la musichetta natalizia siamo felici. Il problema qual è? Che per trovare la musica, non so se ne ho a casa, beh, sicuramente sì, ne ho a casa, dai, per forza. Vuoi dirmi che in tutte queste puntate di Minecraft, signora Petta, vuoi dirmi che non ho trovato neanche un disco natalizio? Non so se ce ne sono natalizie, onestamente, però, potremmo, potremmo cercare, potremmo cercare. Nel frattempo mettiamo una lanterna, ma abbiamo bisogno di una lanterna centrale? No, che non vorrei che poi mi spona, ho capito, un mob, un creeper, ad esempio. Brutta roba, brutta, brutta gente, creeper, eh. Fanno sempre, fanno esplodere, un casino, un casino. Allora, recuperiamo un po' di dark oak, quindi, cos'altro abbiamo bisogno qui? Dark oak per fare, e magari un po' di lana per fare un tappetino, potrebbe avere senso. Ah, se non ve ne foste resi conto, sono andato nel lendo e ho riparato tutta la mia attrezzatura. Era necessario perché l'elitra stava un attimino passando dal lato non buono delle cose, ecco. Allora, non abbiamo bisogno di tantissimi blocchi, in realtà, eh. Ve la caviamo con due scalette. Quattro scalette, scusa. Perfetto. Ora, per quanto riguarda i tappetini, eh. Guarda, o faccio della lana ad hoc, o recupero della lana con delle cesoie. Anzi, le ho finite le mie cesoie, quindi fammene craftare un altro paio. Allora, potremmo in effetti, semplicemente, prendere un po' di questi fiori rossi. Cioè, questo colorante rosso. Ce lo portiamo dietro. Facciamo un po' di tappetini. Make sense? Guarda. Ce lo facciamo andare bene, come ragionamento. Ce lo facciamo andare molto, molto bene. Ora, cerchiamo delle pecore, che in teoria, comunque, da queste parti io dovrei avere. Eccola qua. Sono grigio o bianche? Sono bianche. E allora si vola. Dammi un po' di lana. Grazie. Dovremmo fare una farm di lana? Eh beh, potrebbe essere una buona idea. Vieni qua. Altre maledette? C'è solo cinque pezzi di lana, così? Non è che ci faccio molto con cinque pezzi di lana. Però qua sopra, secondo me, c'era qualche altro animaletto. Eccolo. Allora, abbiamo un'altra bastardella. Dove è bastardella, poverina. Cioè, mi dà anche la lana. E qua. So che c'erano altre da queste parti. Ma erano tipo grigie. Ecco, tipo quella lì non mi va bene. Bisogna di quelle bianche per poterlo colorare. Un'altra... Questa è nera. Quello è un pollo. Eccola. Top, via qua. Ok. Quante ne abbiamo? Nove. Nove non è esattamente perfetto. Però con questi sei io posso fare questa cosa qua. Ho nove carpet che possiamo combinare con la nostra Darkoac per fare un tappetino rosso. Perché è Natale, ragazzi. Che cazzo. E poi, importantissimo. Cioè, importantissimo. Importante. Ho bisogno di più colorante rosso, in realtà. Cazzo. Questa è una rosa rossa. La prendiamo molto volentieri. Anche questa. Lo so che sono pieno di poppi lì dove abbiamo la farm. Però non è che posso fare avanti e indietro. Oh minchia. Vabbè, anche lì siamo pieni in realtà. Ma che bella sta venendo sta casettina. Moltacci. Bella, bella. Allora. Facciamo prima che facciamo la nostra bellissima poltrona. Con cui guardiamo fuori dalla finestra. E qui attorno mettiamo... I tappetini. Tipo così. No. Tipo così. Abbiamo il nostro tappetino. Peccato che non vediamo la luna precisamente. Forse potremmo spostarla un blocco più a sinistra. Questa poltrona. Spostiamola così vediamo meglio. Facciamo così. Ah, va che bella la nostra vista. Incredibile. Impressionante. Mettiamo un po' così, un po' più sbarazzino. Fantastico. Abbiamo la nostra poltroncina. E qua ci metteremo l'albero, abbiamo detto. Andiamo a dormire, va? Prima che diventi... Particolarmente notte. Beh, ma che bello. Ma che bello. Proprio bello. Dormiamo. Allora, ora recuperiamo la nostra crafting table. E andiamo a creare un po' di colorante. Ora, noi abbiamo della terracotta. Non tantissima. Però neanche poca. Abbiamo 40 pezzi di terracotta. Come vanno usati? Allora, sicuramente... No, aspetta, forse è più in alto? Sì, secondo me è più in alto. La terracotta, io se non sbaglio, va piazzata proprio dove c'è tutto sto baradam di glowstone. Che la groston deve passare attraverso, ma non deve essere... Cioè, deve fare luce attraverso le foglie. Non in maniera diretta. Quindi, una cosa di questo tipo, praticamente. Tutto rosso deve diventare. Quanta terracotta necessitiamo? Un bel po'. Decisamente un bel po'. Però ci va bene. Cioè, vedi che viene poi un bel tettuccio, tutto bello colorato. E sì, andiamo a recuperare un bel po' di sta roba. Necessitiamo di... Riesco a volare via da qui? No. Riproviamo? Eccoci qua. Allora, vuoi che qui non ci sia della terracotta per noi? Che poi terracotta dobbiamo farla, però... Tipo qua. Guarda qua che bello. Bellissimo. Abbiamo anche Respiration, abbiamo anche Death Strider, quindi siamo sirenissimi. Dobbiamo fare le cose di fretta. Tu piazzi qui, ti metti, con calma. Certo, la palla non va veloce come sulla terraferma, ma non è un problema per noi, assolutamente. Ok, 64 più 32. Recupriamo un po' di aria e andiamo a prendere quello lì. Colorante anche non è un problema. Abbiamo quei cespugli di rose sotto la baita. E probabilmente dovremmo rimuoverle comunque perché voglio rendere tutto innevato. Quindi, problemi zero, signori. Problemi zero. Forse mi conviene trasformarli già in blocchi di clay. Che almeno siamo un po' più sereni. Non la voglio la cazzo di flint. Mortacci tua. Ok. Ok. Direi che ne abbiamo abbastanza. Abbiamo uno stack e 25. Vabbè, meglio di niente. Un altro gatto? Quanti cazzo di gatti ci sono? Ma com'è che esponono i gatti, scusami? Cioè, secondo quale ragionamento? In base ai villager? Ma soprattutto, dov'è Mason? Oh merda, si è andato alla macchia. Mason? Amichetto nostro. Cazzo di fino a fatto Mason? Tattacci. È scappato. È scappato. Qualcuno ha visto Mason? Perché da qui poteva scendere senza problemi. Eccolo. Ecco, vedi? Questo è ciò che vogliamo evitare noi. Ma tu non sei Mason. Te sei un altro. Quanti ce ne sono? Vabbè, per me l'importante è che non perdiamo i villager quelli importanti, per l'appunto. Vabbè, senti. Scendiamo qua sotto. Prendiamo un po' di sta roba qui. Intanto io se rompo uno di questi mi dà il colorante comunque, giusto? Se faccio così. Rose Bush. Addirittura me ne dà due. Perfetto. Allora, facciamo. Ne prendiamo un po' di ste robe. Grazie. 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 Fantastico. Incredibile. Impressionante. Trasforma tutto. Pum. 29. Si vola. Si vola. Allora, saliamo qua in cima e facciamo un lavoretto di questo tipo. Quante riusciamo a farne? Bella domanda. Beh, tutte. Ora, non è tantissimo uno stack in 24. Se me comunque non ci basta. Però, da qualche parte toccherà partire. Non so se qui è corretto. Però io so che la neve non si deve vedere. Quindi, se lì abbiamo messo la neve è perché la neve va lì e noi dobbiamo coprirla in questo modo. Tanto possiamo mettere anche delle belle lanternine che non ci fanno schifo. Anzi, ci... Madonna. Ci piacciono tanto. Volevo piazzare delle cose là in cima. Posso? No. No? Perché non vola? Cioè, non salta ma vola. Io non voglio saltare. Voglio... Voglio... Non voglio volare, voglio saltare. Ok. Un po' alla volta ce la faremo. Che cazzo? Anche perché ho lasciato via... Uh. Ok. Guarda, un saltello. Ma... Un po' di danno alla volta ma ce la faremo. Riusciremo a completare sto cazzo di tetto. Guarda, c'ho 51 pezzi. Non ho paura di usarli. Mortacce. Mamma mia. Vieni qua. Ok. Quello. Ok. Quello. Riusciamo. Bello. Lì sopra. Ora sì che prima no. Vi è qua. Bello. Vi è qua. Fatti piazzare come se non ci fosse un domani boom. Perfetto. Perfetto. Ora, come se non bastasse in realtà, il broschi cos'altro è che fa? Mette le trapdoor tutto attorno. E tu dici, mi sembra un po' sprecato. E io ti dico, c'hai ragione. Ragione. Mi sembra un po' sprecato. Però, 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 se il bro dice di farlo, noi lo seguiamo. Non tanto perché chissà cosa, ma effettivamente la luce comunque dovrebbe entrare comunque. Anche perché altrimenti non si spiega tutto il ragionamento che abbiamo fatto finora. Anche di qua. Facciamo tutto così. Magari mettiamo le lanterne già così. Mettiamo delle lanterne. Mettiamo uno lì. Due blocchi. Due blocchi. Facciamo così. Due blocchi così. E due blocchi. Mettiamo uno qui, una qui e una lì. Sì, dai, mi piace di più. Questa lo leviamo. Questo lo leviamo. E questo lo leviamo. Non è simmetrico. Eh, ma non mi piace se non è simmetrico. Basso. Così. Lo teniamo così. Va bene? Va bene. Dammi le mie cosettine. Fantastico. Incredibile. Impressionante. Ora, all'appello in realtà manca l'albero. Cazzo, manca. Ora, per fare... L'albero potrebbe essere una rovetta di questo tipo in realtà, eh. Metti un singolo blocco. Anzi, forse doppio addirittura. E poi tutto attorno ci metti delle cose così. Però è obiettivamente anche un po' triste, eh. Non mi sembra molto un albero di Natale. Ma sai che per niente? Come si fa un albero di Natale carino? Forse con dei large ferne. Metti tutto uno accanto all'altro. Mmh. No, non mi ispira. Eh. C'è da dire anche che comunque qui noi ci possiamo mettere quella roba con gli stand. E viene carino. E sembra un po' dei box colorati. Regali di Natale mi sembra un po' un overstatement. Però diciamo che complessivamente più o meno ci siamo. Ora, qui in realtà no. Quindi in realtà no, perché il broschi mi vuole far mettere una scrivania. Ecco, forse una scrivania che conviene mettere un po' più di qua. Tipo così. Io credo che il bro voglia fare mettere una scrivania. Come si fa a mettere la scrivania? Vogliamo usare dei blocchi normali. Tipo così. Uno, due. Ecco, magari questo lo leviamo. Però così non è una scrivania. Che cazzo dite? E infatti il bro lo fa un blocco più indietro. Sembrava strano in effetti. Ecco, anche qui tra le altre cose. Chiaramente, devo manco dirlo, rapido era a manetta. Guarda, recuperiamo questa che tanto tocca farne altri. Però almeno finiamo la scrivania. Mettiamo così. Mettiamo così. Qui dietro mi faceva piazzare delle librerie. Librerie io ne ho. Vediamo se per caso qui dentro ci è avanzato qualcosa. No, non c'è pensato nulla. Tramonto, che bello c'è il tramonto. Andiamo a vedere il tramonto. Bello, bello. Apetta, ma dai, davvero? Buon in proposito del 2024. Guardare più tramonti. Perché, dai, incredibile. Tra l'altro sapete perché al tramonto la luce diventa così arancione? Dipende tanto dalla densità dei gas che ci sono nell'aria. Quindi in base alla densità, alla pressione, temperatura, il colore, cioè i raggi del sole, che sono quelli che danno anche il colore alle cose, passano attraverso dei gas, per l'appunto, che hanno una densità diversa e quindi alcune delle onde, alcune delle frequenze non passano e di conseguenza abbiamo questi colori. Incredibile, incredibile, bellissimo. Allora, qui il brosk in realtà usa anche tipo dei cartelli. Noi possiamo fargli ai cartelli, non ci cambia la vita. Li facciamo? Facciamo, facciamo dei cartelli, dai. Mi fai dei cartellini, per favore? Me ne servono tre, grazie. Un po' tridimensionale. Non sembra moltissimo una scrivania, in effetti. Sicuramente possiamo metterci una lanternina. Ah, ecco perché non sembra. Il bro vuole usare un lectern e metterci un libro sopra. Io a casa ne ho un altro di lectern, potremmo farla come cosa. Anche se forse sarebbe meglio fare un paio di vasetti, così tipo. Mettiamo un vasetto anche qua, vicino alla finestra. Un vasetto qua in alto, tipo così. No, lì non posso, allora lo mettiamo di qua, fa un culo lectern. Però volevo delle rose. Oh, no, anzi, dei rose bush. Ce li abbiamo. Prendiamoli. Non so se si possono tenere lì dentro. Io spero di sì. Ma cosa vuoi tu? Vattene via. Prendiamo anche delle... Queste non sono rose, ma le prendiamo lo stesso. Oh, mi mancavano addirittura. Così possiamo metterli nei vasetti. Vediamo se posso metterlo. No, questo no. Però il fiorellino secondo me sì. Un tulipano rosso. Va che bello. C'è da un botto il mood natale, vero? Poi il tulipano non so se è d'inverno probabilmente ce ne sono, però... Ok. Ok. Ora, mancano sicuramente quelle robe lì. Bisogna di prus prus. Però, complessivamente, direi che la nostra casettina ha preso proprio un bel aspetto. Ora, quando vi dicevo che... Ma tu cosa vuoi? Ma vattene via. Ma questa è la montagna dell'inverno e tu vieni a rompere il cazzo. Io non ho parole. Comunque, tralasciando, vi dicevo, il contesto importante. Perché qui, secondo me, possono mettere delle piccole cose, ma che da lontano creano un contesto assurdo. Tu hai mangiato della neve in questo momento? Beh, hai la pelliccia bianca. Ha senso, pelliccia, lana. Va bene, signori, ma da noi e dal caminetto e dalla nostra poltroncina del Grinch, praticamente, è tutto. Noi ci vediamo domani alle 7 con la prossima puntata di Minecraft Ita. Ciao a turuturu tutti.